Allora, ora ci alterneremo in sequenze, ora siamo di nuovo Joel, poi saremo di nuovo Ellie, poi saremo di nuovo Joel. Qua ci individuano, abbiamo di nuovo tutte le nostre cose. Allora io ho riavviato per la seconda volta perché qua non voglio sprecare un colpo. Allora, dobbiamo fare una cosa molto semplice, però dobbiamo farla senza sprecare colpi. Uno. Loro il primo in genere lo mancano. Due. Bene. Poi carichiamo, ammazzati questi due, gli altri se ne corrono dietro perché hanno la fiffa. Vedono che sto facendo la pellaccia agli altri e quindi se ne scappano e noi avanziamo con calma. Allora, avanziamo senza correre, pigliamo la shorty perché se esce qualcuno all'improvviso lo svendriamo. Vediamo se ho la roba. Chi avevo preso prima. Ora, se noi andassimo di là, loro ci piglierebbero alle spalle, cosa che non deve succedere. Quindi noi ce ne andiamo di qua. Qua dobbiamo fare una cosa, se ci riesce. Non è detto che ci riusciamo, ma se ci riesce. Spigliamo la molotov. L'altra volta ne ho uccisi tre qua, tutti in un colpo. Stavolta non mi è riuscita la cosa. Facciamo se non altro in modo che non ne abbiamo alle spalle. Vediamo che ci hanno lasciato. Ci hanno lasciato tre colpi di pistola. di questa pistolina. Abbastanza inutile, ma noi ce la pigliamo perché, come si dice, non possa mai servire. Poi avanziamo in silenzio. Sebbene io voglio avere la shorti perché, in caso di necessità, devo tenere un'arma valida. Ora sono tutti qua. Tutti. Il problema è che ce ne sono tanti, non essendo riuscito io. Cambio spalla. Quello l'ho preso in destra. state attenti perché, come sparo io da dietro la staccionata, sparano anche loro, eh. e un altro in destra. Se si mettono tutti là, ho risparmiato anche la Molotov. E' il terzo in destra. Cambio pistola. Ma non so dove sono gli altri, però. Ma non so dove sono gli altri, però. Uno l'ho visto e mi stava anche per furto. Ascolta, stai tranquillo, ok? Sì, certo, va tutto bene, sto tranquillo. Non ti preoccupare. Tu non ti preoccupare proprio, proprio di niente. Lo so che va tutto bene. Sto tranquillo che più tranquillo non si può. Allora, questi li ho ammazzati così. Vabbè, qua possiamo pure correre, ormai non... Adesso, l'ultima cosa da vedere, se ce n'è uno in casa. E se così fosse, lo sistemo io. Bene, altra garza. Dei proiettili che non mi servono. Bene, allora, quest'altra sequenza è finita, ragazzi. Andate di qua e partirà. Abbiamo guadagnato anche tre proiettili. Tutti gli altri li abbiamo. E partirà la cutscene. E stiamo a posto. Combattiamo con questi. Non ci facciamo accortellare. Accortiamo questi. E stiamo a posto. E andiamo a...